La stagione balneare non è ancora iniziata. Intanto gli stabilimenti balneari stanno facendo pulizia della sabbia e la spianatura. I ristoranti si stanno organizzando con i pranzi prendi e porta a casa, i take away. Ciro Patrian, del bagno Perla, spiega che la stagione si presenta purtroppo difficile. Siamo in attesa, dice, di indicazioni sul distanziamento tra ombrellone e ombrellone. Nel frattempo facciamo la pulizia, facciamo l'ordinaria manutenzione e prove sull'allestimento del camminamento che arriva fino al mare. Facciamo in modo che ci sia il distanziamento sociale di almeno due metri tra una persona che va e una persona che viene. Infatti le due corsie del camminamento sono distinte per cui la regola di stare lontani viene dispettata. Ma dovrà esserci molto buon senso anche da parte del cliente e da parte nostra. Dovremmo rispettare sicuramente tutte le regole che il governo ci indicherà. Rispettare il distanziamento, indossare guanti e mascherina e igienizzare tutto quello che si può. Per la vostra sicurezza, prima di entrare, indossare mascherina e guanti e mantenere la distanza seguendo la segnaletica. È la frase esposta all'esterno del ristorante Europa a Rosolina Mare. All'ingresso del porticato si trova un tavolino con sopra l'igienizzante. Quando si entra non ci sono i tavoli, ma per terra la segnaletica gialla e nera che evidenzia i punti da rispettare per mantenere la giusta sicurezza. Il titolare, Omar Cappelletto, dice che la stagione è cominciata con il piede sbagliato e spera che si raddrizzi affinché non diventi veramente critica. Confidiamo nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte e nel nostro governatore Luca Zaia. Afferma, siamo aperti sabato e domenica con il take away. Lunedì si decide il futuro delle spiagge di Rosolina Mare e dell'Italia. Speriamo bene.